Siamo arrivati a un punto proprio di esasperazione, siamo arrabbiatissimi, siamo preoccupatissimi dopo questa vicenda che ci volevano mandare a 40 km di distanza per poter fare i lavori che noi ovviamente ci siamo rifiutati come inquilini abbiamo richiesto un incontro per poter discutere della situazione perché siamo favorevoli che facciano i lavori perché sia giusto ma non che ci dobbiamo poi trasferire noi e tutta spesa nostra assolutamente no, dato che il Comune, il Dipartimento delle Politiche Abitative è sparito non si fa capo di niente perché comunque non ci risponde a nessun messaggio vuol dire che noi non ci fermeremo qui questa è soltanto una intervista ma noi sicuramente ci armeremo in modo tale di poter andare a parlare con i vertici del Dipartimento di Roma